Un viaggio nelle scuole del territorio gubino, che a due settimane dal suono della prima campanella, dopo il mazzatinti e il cassata, ci porta ad analizzare la realtà della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli, ubicata nelle sedi di via Perugina e via Parruccini. Tra le novità, il nuovo dirigente scolastico, l'Ugubina, Francesca Pinna. Ancora troppo presto per fare bilanci, sicuramente tanti, sono i progetti prefissati, anticipati da qualche problematica iniziale, comune a tante scuole. Le problematiche sono le stesse che si trovano ad ogni avvio di anno scolastico, dico purtroppo, ovvero delle enormi difficoltà in tutta Italia, più o meno nel reclutamento del personale nei tempi necessari per gli alunni. E questo comporta inevitabilmente dei rallentamenti e degli aggiustamenti che gravano sui alunni in primis, ma anche su tutto il personale che nella scuola lavora. Dopodiché ho avuto un'accoglienza fantastica, anche emozionante, se posso dirlo. Una scuola pronta a mettersi in discussione in gioco, con delle progettualità particolarmente innovative da quest'anno scolastico, che vorrebbero offrire a tutti i nostri alunni, fin dalla prima media, chiamiamola ancora prima media, delle possibilità di fare dei laboratori pomeridiani, facoltativi e gratuiti, per testare direttamente con mano le varie opportunità che potrebbero consentire agli alunni di scegliere con consapevolezza la scuola secondaria di secondo grado. Quindi cerchiamo di fare un orientamento e anche un'accoglienza degli alunni che sentano la scuola come casa loro, anche al di là dell'orario strettamente scolastico. Tra le scuole più numerose c'è la Mastro Giorgionelli, che forma ragazzi dagli 11 e 14 anni, uno spartiacque che deve trasmettere agli studenti, secondo il dirigente scolastico PIN e gli insegnanti, dei valori e delle consapevolezze importanti. La secondaria di primo grado è l'obbligo della scuola dell'obbligo, nel senso che è in mezzo tra due segmenti lunghi, la primaria e la secondaria di secondo grado di 5 anni, e quasi a volte un po' schiacciata in mezzo a queste due prospettive. I ragazzini entrano che sono bambini e escono che sono già ragazzi, ovviamente. con tutti gli stordimenti giusti e piacevoli anche, che la loro età mette di fronte a loro. I valori sono quelli di sentirsi coesi, quelli di sentirsi già parte della società, di avere la consapevolezza che loro non sono i futuri cittadini, ma sono già cittadini, e quindi hanno dei diritti da esercitare, cui corrispondono dei doveri, e che tutti insieme si va tanto tanto lontano, si inciampa ma ci si rialza, sempre e comunque, purché si vada insieme. Insieme anche ai genitori, e Francesca Pinna, che oltre ad essere dirigente e anche mamma, lo sa bene, un appello dunque per l'inizio di un proficuo anno scolastico non può che andare anche a loro. Ai genitori l'appello a mio avviso è quello di ricordarci, noi tutti, che i passaggi che abbiamo compiuto noi nella scuola sono gli stessi alla fine che fanno i nostri figli, quindi un'ansia che a volte può essere legittima, ma che molto spesso è più nostra genitoriale che non dei ragazzini. Mediamente i passaggi sono funzionali all'età che vivono, e quindi è anche giusto fare questi salti, sono pronti tutti, chi se ne accorge prima, chi se ne accorge dopo. La scuola è lì per accogliere tutti, gli alunni in primis, ma anche i genitori, e tranquillizzarli rispetto appunto alle fasi serene e fisiologiche di crescita dei loro alunni. L'appello a volerci bene, inteso proprio come senso di solidarietà, sapendo bene che il fine comune è lo stesso per tutti, cioè i figli.